Ciao, oggi faremo una staffetta rialzata. Sì! Ok, che enfasi, brava! Mi piace fare questa challenge. Ok, allora, vi dividete in due squadre. Le capitane oggi sono Deborah e Caterina. Avvicinati un po', Debbie. Ok, ehm, Miki, Emma, Letty, io? Sì, avevo visto. Giadi, Letty, Fadda, Purna, cosa? Ma noi abbiamo tutte le più piccole. Ma dai, facciamo staff di rosa. No! No, va bene! Allora, via, dire, 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 e va. Perfetto! Questa è la squadra di Deborah e questa è la squadra di Caterina. Avete a disposizione questi tre tappeti per squadra e potete utilizzare solo questi, ok? Sì! Vediamo qual è la squadra che inizierà. La staffetta è a tempo, ok? Andiamo. Inizia la squadra di Deborah. Ok. Dovete decidere chi sono le cinque componenti che faranno il percorso e invece le altre due rimarranno a spostare i tappeti. Pronte? Mi dimmi, Cica, se no, come fai a vedere se li toccano bianco, no? Pronte? Allora, dico anche a voi, se durante il percorso toccate la pedana, il giudice vi rimanda indietro. Pronte? Pronte? Via! Attenzione, non toccano bianco, eh! Vai, vai, Cica! Vai, vai! 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 Vai, vai! E ora deve aver toccato il rosso, che vai, vai! Cosa fa questa? No, no, torna indietro! Via, via, veloce! Ah, gattoni! Gattoni! Via! Ha toccato! Ha toccato! Bea, indietro! Non deve aver toccato il gatto! Vai! Vai, Cica! Vai, Cica! Vai, Cica! Vai, Cica! Dai, 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 dai! Vai, dai, 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 dai! Vai, vai, Cica! Dai, 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 dai! Dai, dai, veloci, veloci, veloci! Dai, dai! È la quinta, lei? È la quinta, Dani! Vai, per il tuo rosso, stop! 1,41,78 1,41,78 per la squadra di Deborah te lo ricordi o bisogna lo studiare? Ok! Siamo pronte? Il tempo da battere è 1,41,78 chi sono le cinque che fanno? Loro tre e loro due perfetto! Bimbe mi raccomando si tocca al rosso e poi si parte non si tocca al giallo Ok! Pronte? Via! Puoi partire! Attenzione a non toccare bianco, eh! Vai! Vai! Vai, Cica! Cica! Vai! Tu stai facendo! Ho perso! Vai! Vai! Vai, Cica! Sì, sì, sì. no ha toccato ha toccato indietro dai 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 che puoi recuperare lo stesso attenta di non toccare manca poco vai 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 stop 1,49 oh per pochissimo per pochissimo bravi ma com'è quanto mi fatica io che loro mi dispiace che avete perso e vabbè la prossima volta ok le campionesse oh scusa le campionesse applauso ciao ciao